Andiamo nelle Marche per scoprire meglio Genga, famosa per le grotte di Frassassi, con tutte le loro stalagmite e stalagmite. Delle grotte vere e proprie, abbiamo già parlato diverse volte, sono tanto grandi che si dice che la cavità maggiore, cioè la grotta del vento, potrebbe contenere il Duomo di Milano tutto intero. Non so se sia vero o no, perché il Duomo di Milano è... Vabbè, comunque non solo questa grotta, ma ci sono anche incastonati lì in mezzo alle grotte, ci sono anche l'eremo di Santa Maria Infrasaxa, che è stato citato in documenti dell'anno 1000 e ospita una statua della Vergine del Canova, e il Tempietto del Valadier. E' una struttura ottagonale in blocchi bianchi di travertino, fatto fare da Papa Leone XIII, che è nato proprio a Genga, su un progetto appunto dell'architetto Valadier, che è quello che ha fatto anche la cosa a Roma. Ah sì? Però leggevo qui che questo è il sito delle grotte, no? Poi si può visitare vicino a Genga, nella frazione di San Vittore, la chiesa di San Vittore delle Chiuse, che risale all'undicesimo secolo. E' un bellissimo edificio romanico, poi nel parco della Gola Rossa, tra gli appennini, ci sono tantissimi spunti per passeggiate e per stare all'aria aperta, quindi dai approfittatene che siamo in primavera. Le Marche.